Marco, dove ti è finito? Ti stiamo cercando tutti! Ma dai vieni, sto giocando a razzo! Sto giocando con un avversario a caso, però non lo conosco. Ehi, adesso prendiamo quello sfigato di Marco e iniziamo a bombardare la difesa. Tata non ci conosce. Si, giusto, dai! Oh, mi hanno mandato quattordici messaggi! Oh, cavolo! Cavolo, adesso cosa facciamo? Fai lo screenshot così lo manda ai tuoi genitori. Va bene, è la cosa migliore da fare. Papà, mamma, guardate cosa mi è successo! Posso vedere il figliolo? Ah, bella educazione! Con chi giochi? Che commenti! Ciao, scusa! So a che scuola vai, appena ti vedi ti riempio in botte. Cosa possiamo fare? Ah, meno male che hai fatto lo screenshot! Così, se si verificano dei problemi a scuola, possiamo parlarne con la dirigente. Non ti preoccupare, però non giocare con gli avversari a casa, ok? Cosa stai facendo? Stai giocando con uno sconosciuto sul razzo. Con uno sconosciuto! Mi vuole conoscere! Wow, magari è il tuo primo ragazzo! Mi hai chiesto di venire il telefono a facciatare su Whatsapp? Dici, sì! Ok. Agatha, Agatha! Cosa è successo? Ma che mi è stata trassando con delle chiamate! Che cosa facciamo? Non lo so. Mamma, papà, non sapete cosa mi è successo? Fai vedere qua! Ma è possibile che tutti questi giovani non sappiano usare un telefonino? Mamma, mi dispiace, non volevo farlo. Non ti preoccupare, adesso vediamo. Allora, facciamo lo screenshot, così se si verificherà un'altra volta abbiamo le prove. Ok. Ok, grazie. Grazie a tutti!